Oggi guardiamo Maria e vediamo il traguardo, vediamo che una creatura è stata assunta alla gloria di Gesù Cristo Vittorio e quella creatura non poteva essere la madre del Vestorio. Vediamo che nel paradigma di Gesù Cristo, che di nuovo d'anno, ci agisce una nuova vita, che questo ci dà un porto e speranza, è noto che non rimangere la sua vita.